Eccomi qua, ringraziamo Francesco per te, ci ha seguito per tutto il paglio con una miriade di filmati, foto, pubblicati sul suo 6tu.it Andate tutti a vederli, grazie Francesco! Grazie, grazie, sei un amico, sei un amico Ambrogio, grazie mille, ciao, chiudiamo, ciao, ciao! Sono buonissimi Ambrogio, cosa sono? Sono dei biscottini di cioccolato con coperti di cocco, mamma mia che roba, super, grazie! Grazie, grazie! Ragazzi mi dicono che oggi piove purtroppo, eh! Una volta c'era la danza della pioggia, ma la danza del sole la conoscete? Eh, bisognerebbe farla oggi, eh! Eccole, signore! Ma io vedo che a lavorare sono sempre le stesse, eh! Eccoli, buongiorno, qui c'è la cucina, la gentile signora, e qui le signorine con il giovanotto, le signorine con il giovanotto, prima le signorine, eh il giovanotto si vergogna, va via! Ah, il dolce! Bravi, bravi! Va bene! Bene! Ciao, ciao! 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 Grazie. Wow. Stop, please. Ahi, ahi. Bravi. Ma i ganci non sono validi, vero? bravi nuova partita i punti disegnati o no? bravi pallina e vai uno pari 2 a 1 per i rossi 3 a 1 per i rossi 4 a 1 ehi i rossi sono forti qua quella 5 a 1 5 a 2 fate la rimonta? 5 a 1 5 a 1 dai Grazie. Ola. Ai ai ai. 6 a 2. Ai ai ai. 7 ragazzi. I rossi stanno scappando. 7 a 2. Uè. 7 rosso. 3 blu. Vai. 7 a 4. 7 rossi. 4 a blu. 8 a 4. 8 rossi. 4 a blu. 9 a rosso. 4 a blu. 10 a 4. 10 a 4. 4 rossi. 4 rossi. 4 a blu. Cosa fate? La rivincita? Dai vai. Cambiate campo? Ah, cambiate posto. 1 a 0 per i rossi. 1 a 0 per i rossi. 2 a 0 per i rossi. 3 a 0 per i rossi. aia. Eh, mi sa che il portiere è lì. 4 a 0 per i rossi. 6 a 0 per i rossi. 4 a 1 per i rossi 4 a 1 per i rossi 5 a 1 per i rossi 5 a 1 per i rossi 6 i rossi 6 i rossi e 2 i blu 6 i rossi e 3 i blu 7 rossi e 3 i blu 7 rossi e 4 i blu 7 rossi e 3 i 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 rossi e 4 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 i Sette rossi, cinque blu, otto rossi, cinque blu. Vai! Otto rossi, sei blu. Sette rossi, cinque blu, otto rossi, cinque blu, otto rossi, cinque blu, otto rossi, cinque blu. Sette rossi, cinque blu. Sette rossi, cinque blu, otto rossi, cinque blu, otto rossi, cinque blu, otto rossi, cinque blu. Wow, otto rossi, sette blu. Otto pari, ragazzi che rimuota. Nove rossi, nove rossi, otto blu. Vai, vai, dai. Vai, vai, dai. Nove pari. All'undici, eh. All'undici, eh. Ehi, dieci rossi, otto i blu. Ehi, partita. I rossi vincono. Undici a? A nove. Va bene, bravi comunque tutti quanti. Bravi, bravi, bravi. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Bravi, bravi. Il tempo è sempre brutto. 판ato Combino. India Flaglia, ragazzi, edecto. La Posa. Ricоды eBay è v sucedetta. überall maggiore ad ICI. Min Thanks, ma sinceramente che hai fatto la incontrazione Questa cosa un certo lascia. Riii. Ahahahahaha. Grazie. Grazie. Allora, potete venire loro, possiamo iniziare a giocare. Chi ha tutrati, chi ha l'ambito? Tutti e due, per la primavera di Sera. Bandiera, poi ci stavano da togliere. Allora, potete venire. Ottimo, potete venire. Ok. Penegono? Noasticamente, ora, per questa volta ci sono le parti dell'em Jorge communaut, e in parte, un grado di squadra di mandata, la cenza di investimento alle città difendro. In questo livello, con il questo mostro al figlio delle medie, e Außerdem Funuler, prendeva soluzione sentaeva dai nostri dati per εκopterze Division Fino se ogni abitiva, quindi lo traslegerò per il mesecondo a l'ascelerò, potete venire da me ren buck. è la lentezza, poi è una zona sensibile, quindi vabbè, poi i ragazzi non sono dipendono, perché dopo il 2016, non c'è un posto, non c'è un giudice, perché c'è un passaggio che non fa l'azienda, non c'è un male, e lui che aveva stato sapendo che dice, ma è stato piangere, lui non ho visto un altro colpo che mi sono spaventato, e lui non è stato piangere, e quindi non è stato più durato, ma non è stato più durato, perare, perciò. Grazie. 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 Allora, faremo... Faremo 15 chiamate. A termine la squadra di più punti avrà vinto. Numero... Due! La bandiera... Uno! Grazie. Guardate! Numero... Uno! Andrea! Guardate! 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 Numero... Guardate! 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 Vediamo un'espai! appena entrando in una linea, partiamo dal titolo della linea rossa, numero uno, punto Locati, numero quattro, Locati, siamo cinque, uno per Locati, numero tre, punto per Locati, numero due, numero due, numero uno, punto per Locati, numero a bianca c'è per dopo numero tre prima la bandiera due ora lo gana numero uno numero uno punto locante ultime tre diamante numero tre numero numero duecento e quindici mila numero uno ultima chiamata numero due vince per tredici a due locante bravi locante chiude la bandiera al terzo posto del regono al quarto posto un applauso per locante per il regono nel campo se ci sono lunate e guardate guardate c'è aspettiamo un attimo vediamo se la vivano avviate i casversi ci sono lunate dopo avviate c'è il in avviate volstì due letta venite venite fu FG ok va bene capo venite venite eh ben Grazie a tutti 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 Numero Grazie a tutti numero 3 numero 4 numero 4 numero 1 numero 5 numero 4 numero 4 numero 4 numero 4 numero 5 numero 4 numero 5 Diamo 5 pari, c'è una chiamata ancora in testa, numero 2, la sua tattica, non cambia la sua tattica. Numero 3, numero 4, peso, angelo 2, la sua tattica. Numero 1, c'è una battiera, c'è una battiera. Vai, vai, a capo, a capo, a capo, a capo, a capo, a capo. Tentiamo di stare, finché nessuno la prende nella nostra metà campo. Numero 1, un manche, manche Amanda. Numero 5, un po' di modate, seconda presentata. Numero 5, un po' di modate, seconda presentata. Numero 5, un po' di modate. Numero 5, un po' di modate, seconda presentata. non è che ci fermi lì, dai, dai, fattelo partito tutti assieme, dai si vuole controllare, Aya, dai, qui ti metto anche tu, dai vedi la tua figlia dell'asilo, no, guarda, allora bravo, bravo, fai le squadre, tutti in fila, tutti in fila, tutti in fila non agli altri, così mi fa le squadre, vai, vai, stiamo in un paese, lui ha la salutare? No, vai, è la prima di fare un'acqua, è un po' fra l'acqua, ah, s'era un po' progetto, bene. Si, andiamo senza stare, aggiungo, mi s'ha Annie, nelle mie città. Grazie. 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 Numero 2. 2. 1. punto come vi chiamate voi? 9 punto per tartarughe ninja numero 15 di minbios punto tartarughe ninja numero 10 ae punto per i minbios numero numero 1 1 1 ma è il cuore qua che ha colpito appunto per tartarughe ninja numero ae tartarughe ninja per un centimetro per un centimetro numero 8 attarughe ninja scatenati chi sei Raffaello? Donatena? dove sei? Michelangelo? numero 5 2 la linta fa tutto sarà un po' aste cavoli numero 4 3 numero 3 numero 3 numero 3 ripacciamo 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 e mi dico non pachelocks perché ho sviluppato la bandiera ok numero tre va la甩ela va la甩ela va la甩ela vai la甩ela stai proven where è una come è una bandiera riguardante la bandiera cont celebrated bon transformed e qui ti asce di voy унд oppure mi ti asce Numero 6, salto cambiato, numero 7, punto per il pantalughe di Giorgio, Miriam su 2, numero 1, punto per i Minions, numero 4, punto, numero 8, numero 2, numero 9, numero 9, numero 9, numero 9, numero 9, numero 5, numero 5, Il Minions è rimasto futurizzato, numero 6, mancano due diamante, qui faremo una foto insieme, numero 10, un'ultima chiamata, numero 7, un'ultima chiamata, numero 15 a 5, un'ultima chiamata, un'ultima chiamata, grazie 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 Grazie. 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 Ora, le spiego per tutti riguardendo,. Pari pari a quanto fanno di settimana, quindi il Dino 3 che varia 2, il Dino 2 che varia 1, uscita libera. Non ci sono mai rimesse, c'è sempre i punti, non c'è tiro intero, ma c'è il check, però dal settimo palo di un po' di squadra, ogni palo da un punto alla squadra che lo subisce e palo avanti a difesa, questo per aiutare che ci mazzolliamo di volte che cosa farò fare, ok? Per non c'è, si arriva ai 21 punti o al termine di 10 minuti, le squadre con i grandi lo possono fare ai volanti, usiamo la pala da sette, giocheremo nel campo alla via sinistra, nel campo alla mia destra, senza mandare male qua, poi sono stati citati per tenerci casi in vista delle partite. Allora, la prima partita iniziamo subito dal pari dispari tra piante e cornate, in caso di pareggio, inizierà la squadra che non ha iniziato con una pala di mano e la mia squadra che è stata canestro, inizierà la partita. Quindi, abbiate e bornate ai miei sinistrati, una pala di fumano. . Asi. Poi. Di fino a. Già. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 io la cia giocava a questo gioco qua, ogni giocatore di basket vi attribuivano a una se non massimera la cia ganelli un po meredì giocatore di basket sapete quelli che di scuola più e più prestosione di bambini no ah ho capito ma nero non sei mai doveva fare svegli guadagnolo ma vado pagate mi e e il ragazzino il ragazzino quindi quello che sta marcando quello che sta facendo in seguito l'ex ragazza dell'Alessandro D'Alessio bellissimo l'uomo 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 è la la l'uomo la l'uomo 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 spero un po' amato ecco 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 4 a 1 no ecco 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 buonga ecco 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 Grazie a tutti. 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 E' sicuramente si mettono d'accordo per l'eventuale recupero Venegone Castasseppe e un pittiero gentilmente anche a Venegone Castasseppe di uscire dal campo. per favore se volete per favore uscire a continuare la discussione quindi iniziamo quindi dentro locate e ah detto sbagliato la prima partita è attivate le due tornate chiedo per favore alle squadre che non devono giocare adesso di uscire dal campo anche da qua ci mettiamo più spazi se non dobbiamo giocare ovvero è che il campo è un'ăng環и uno non soprattutto quindi non c'è tanto� se siano se siano a mangiare a mangiare a mangiare a mangiare per favore se ci si sono appbuziare per favore a mangiare L'abbiamo 7, l'abbiamo terminato, lo stanno andando, stanno andando, stanno andando, un po' a volte, ora intanto, ci sono tutti, come si capisce dal punto di vista del tuo gioco, come si capisce, la scena è terminata, il campo sarà, riga bianca di tutto il campo, Riga bianca di metacampo, riga bianca laterale e di qua la riga rossa con i cinesini, una squadra starà dentro a questo rettangolo ed è la squadra che viene presa, l'altra squadra sta fuori dal campo e cerca di prendere chi è dentro. La squadra fuori può passarsi la palla attraverso il pietimetro ma non può mai entrare nel pietimetro, se la palla si ferma dentro si può entrare a recuperare e va passata fuori. La prigione viene presa oltre la riga del primo libro del basket, questa qua, oltre questa riga qua, la prigione. Se la squadra che prende tira e la palla viene presa al volo da un concorrente che è dentro al quadrato, chi è dentro al quadrato può passarla al prigioniero. Se il prigioniero prende la palla al volo, si libera, ok? E la palla viene presa e pulita, ma la squadra riprende. Sono due mani show di 10 minuti, vince chi prende punti concorrenti nel ridor tempo oppure chi prende punti concorrenti se il tempo non si è risolto. Abbiate, ce l'abbiamo? Quasi, ma più quasi di prima o meno quasi di prima? Usuale al quasi di prima. Non abbiamo pregresso. Grazie a tutti. Grazie a tutti 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 Passate a tutti Grazie 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 a tutti Non finisce Grazie a tutti 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 Via Via Grazie a tutti 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 Ehi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Via Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Dai Grazie a tutti 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 che hanno fatto Grazie Grazie a tutti 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 Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti